Tanta voglia di collaborare da parte di tutti i commissari di questa commissione di inchiesta che è arrivata alla seconda seduta e già per la prossima settimana si ripromette di inquadrare la questione che è una questione molto molto compressa che non riguarda soltanto Bussi ma riguarda altri dieci paesi che sono compresi nel sito di interesse nazionale. Si comincerà dall'Arta con la direzione poi di ambiente della regione Abruzzo e con il sindaco di Bussi naturalmente e poi via via con altre audizioni. Ci saranno più audizioni quindi nel corso del tempo sarà possibile sentire naturalmente il presidente della provincia attuale e quelli precedenti, il sindaco di Bussi e quelli precedenti, i sindaci delle 11 comuni che fanno parte del SIN e poi via via tutti quanti gli altri compresi l'azienda sanitaria per quanto riguarda lo studio epidemiologico che c'è su tutto il fiume Pescara fino alla città stessa di Pescara. Nello stesso momento ho avuto modo questa mattina di formalizzare al presidente Legnini che ha accolto anche la possibilità di fare un sopralluogo proprio sul sito delle discariche perché noi non ci dobbiamo occupare soltanto dei ritardi della bonifica ma ci dobbiamo occupare anche dei misi, cioè delle messe in sicurezza di tutte queste aree ed è di questi giorni appunto che nel corso di alcuni sopralluoghi che ho effettuato alcune di queste aree, in particolare la 2BI, quindi a valle di Bussi, il capping è assolutamente deficitario ci sono spostati tutti i teli geotessili che servivano ad evitare che l'acqua potesse entrare in contatto con le sostanze contaminate e da lì arrivare alla falda. E poi naturalmente sarà la volta dell'Arta che ci dirà anche se ci sono altre forme di inquinamento atmosferico che in questo caso potrebbero riguardare anche Bussi perché si trova a Monte. Naturalmente non vogliamo creare allarmismi né fare terrorismo psicologico però la Commissione si deve occupare della situazione attuale, dei ritardi si deve occupare naturalmente dell'ambiente e della reindustrializzazione perché Bussi ha una importante tradizione storica industriale in Italia e poi naturalmente anche del diritto alla salute.